Ciao Dario e un caro saluto a tutti gli amici in ascolto. Mi chiamo Gavino Zucca e sono qui per parlarvi di Assassinio a Pedramanna, quinta indagine del tenente dei Carabinieri Giorgio Roversi, appena pubblicata da Newton Compton, così come i precedenti romanzi della serie. Siamo a Sassari nella primavera del 1962, dunque sono trascorsi tre mesi dal termine della precedente indagine, dove avevamo lasciato il tenente Roversi in preda a un dilemma. Accettare la proposta dei superiori e tornare finalmente nella sua Bologna, oppure decidere di rimanere in Sardegna, dove il giovane ufficiale era stato spedito per motivi disciplinari in seguito a quelli che vengono descritti come i fatti di via San Mamolo. Laureati in fisica, amante della scorsa di cioccolato e del gioco del biliardo, Giorgio Roversi è un grande amante di Tex Wheeler, con il quale condivide anche molti aspetti del carattere, tra cui l'amore per la giustizia e l'insofferenza per le regole troppo rigide, soprattutto quando queste impediscono all'umanità di espridersi. Grazie alla sua empatia e alla capacità di medesimarsi negli altri, Roversi in Sardegna è riuscito subito a farsi amare e apprezzare, risolvendo una serie di difficili casi tra Sassari e paesi del circondario, e finalmente nel quarto volume della serie, il misterioso caso di Villagrada, è riuscito a tornare a Bologna per venire a capo dell'intricata vicenda che aveva condotto appunto ai famigilati fatti di via San Mamolo e al suo allontanamento da Emilia. In questo quinto romanzo della serie abbiamo subito la risposta al dilemma. Roversi ha scelto di restare in Sardegna, anche perché sull'isola ha trovato amici sinceri come Don Luigi Gualandi, piccolo nobile locale e proprietario della tutta di Villa Flora alle porte di Sassari e soprattutto l'amore della giovane governante di Villa Flora, Caterina. Proprio Villa Flora e la città di Sassari col suo agro ricco di storie e tradizioni tornano a essere le protagoniste di questo quinto romanzo, come nei primi due della serie. La vicenda ruota intorno al ritrovamento di un misterioso reperto neuragico durante i lavori di rifacimento dell'impianto fognario di Villa Flora. Due giorni dopo il manovale autore della scoperta scompare senza lasciare traccia, mentre il giovane archeologo a cui questi aveva proposto la vendita del reperto viene trovato morto all'interno di una Domus de Janas, una tomba preistorica, a pochi chilometri da Sassari. Proprio in manovale viene indicato come il maggiore indiziato per il delitto, ma il ritrovamento del suo cadavere porta a mettere ogni cosa in discussione e ci vorrà tutta l'abilità investigativa del tenente Roversi per riuscire a risolvere il caso e trovare il vero colpevole. Gli amanti della serie troveranno qui tutti i personaggi che hanno già conosciuto nei precedenti romanzi, Luigi Gualandi, Caterina, Michele e membri della Greffa della Cionfra, cioè il gruppo di notabili amici di Gualandi che usano a riunirsi al Caffè dei Portici. Chi dovesse invece leggere Assassinio a Pedramanna senza conoscere le precedenti opere non avrà difficoltà a inserirsi nel piccolo mondo che ruota intorno al tenente Roversi. Dunque non mi resta che augurarvi una buona lettura con Assassinio a Pedramanna, quinto episodio della serie delle indagini del tenente Roversi. Un grazie di cuore a Dario per avermi offerto questa opportunità e un caro saluto a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.